Quindi le star del porno oggi guadagnano molto di più, le pornoattrici guadagnano come una pornoattrice tantissimi anni fa, i prezzi vanno sempre dai 500 euro ai 1000-1005 a scena, non si paga a film, si paga a performance. Ciao, sono Francesco Giano. E io sono Giulia Valentina. Questo è Shoff, il podcast di Wilco prodotto con Sky Italia che racconta come sta cambiando il mondo dell'intrattenimento, chiacchierando con i suoi protagonisti. Oggi parliamo di come sta cambiando il mondo del porno tra nuovi portali e OnlyFans e lo facciamo con Rocco Siffredi, attore porno dall'84 ha vinto più di 40 AWN Awards, gli Oscar del porno, prima come attore e adesso come regista. Senti ma tu inizi negli anni 80, no? Come si iniziava allora la carriera pornografica negli anni 80, anche per paragonarla come si inizia ora? Mi fa una domanda molto interessante perché ne parlavo adesso per un mese di seguito con mio figlio, tu mi direi con tuo figlio, sì perché stiamo preparando una piattaforma super figa che insegnerà il lavoro del porno star, proprio l'accademia, di come si affronta il mondo del porno per chi ha voglia di approcciarsi. Io ho fatto un video che si tratta proprio di questo, si chiama Storia del porno oppure Viaggio nel tempo e cioè come era il porno negli anni 80, cioè io il mio secondo film l'ho fatto con Moana, il primo di Moana è stato il secondo mio in pellicola e quindi all'epoca le trame non c'erano così spettacolari, c'era un pelino più di, c'era un po' più di sessualità normale, non c'era il sessualità normale, mi ricordo le orge e mi ricordo le telecamere, quindi non audio in diretta perché erano macchine da presa che facevano il rumore e in più, quindi non c'era l'audio, si facevano tante orge, erano soprattutto un gruppo di francesi super pro e c'eravamo io e Roberto Malone che era un ragazzo di Torino, quindi dico la differenza reale era il tipo di sessualità, quello che si fa a casa, il sesso classico, soprattutto ogni 5-6 minuti si fermava la macchina per cambiare la pizza, per cambiare le batterie, quindi non era stancante e mi ricordo gli attori che erano tutti lì, can I work today, can I work today, perché si faceva tutto in maniera molto light e leggera, per poi arrivare alle anni 90 in cui il video prende il sopravvento e quindi il beta cam e già le cassette durano 30 minuti fino ad arrivare ad oggi che invece con una piccola cartina così ci puoi fare 3 ore e fare l'attore hard diventa molto impregnativo a livello fisico. Si può dire che il momento di svolto successivo è l'internet negli anni 2000 con i portali Pornhub eccetera che rendono tutto, il porno diventa gratis a quel punto, e lì come cambia il mestiere del pornoattore? C'è una crisi del pornoattore classico che produceva i suoi vuoi a crescere per vendere lì? Nel 2000 quando è iniziato il porno su internet eravamo tutti un po' con gli occhi che succederà, andrà o non andrà, piano piano tutti quanti abbiamo capito che il futuro era quello lì, ci siamo adeguati, ma cos'è cambiato? La prima cosa che è cambiata è che ha portato molto più lavoro a tanti, si sono formate le categorie e quindi ci sono stati tanti produttori che si sono specializzati nel fetish, nel POV, nel casting, però è entrato anche un po' tutto quello che io dico, una volta per entrare nel porno era complicatissimo, non c'erano i saloni dell'Eros, non c'erano il porno Oscar a parte Las Vegas, quindi uno vuole fare il porno star come faccio? Oggi si sono aperte le finestre, quindi è tutto molto frastagliato e il mestiere del porno star professionale, professionistico, è andato un po' a perdere ti assicuro, se tu hai letto le porno star italiane tipo Moana, Cicciolina e i personaggi top, negli anni 80 prendevano 100 milioni di lire per un film, ma lì è il merito di Schicchi che è stato il manager più grande al mondo, al mondo che vendeva veramente, tra virgolette, delle porno star, che vicino alle americane facevano ridere, con tutto il rispetto per Moana sessualmente parlando, le vendeva 100 milioni di lire per un film, che significa 4-5 giorni di lavoro, contro le americane che prendevano 1000 dollari, la top americana 1000 dollari a scena, quindi stiamo parlando di 4000 dollari a film. Oggi tu hai persone come Angela White, Riley Reid in America, che solo dal profilo OnlyFan guadagnano 100 mila al mese, 100-150 mila dollari al mese, solo dal profilo OnlyFan, perché? Perché OnlyFan ha bypassato noi, OnlyFan fa sì che il personaggio è in contatto col fan, gli manda il video personalizzato, il video col nome, il video che lui sognava e fanno loro il prezzo. In più, la Angela White in questione lavora con le major, le produzioni più grande, per tenere il nome sempre al top, per vincere i premi a Las Vegas, è una gestione completamente diversa. Le pornostar odierne, quelle star, io chiamo pornostar le star del porno, se loro le chiamo pornoattrici, è una grande differenza. Quindi le star del porno oggi guadagnano molto di più, le pornoattrici guadagnano come una pornoattrice tantissimi anni fa, i prezzi vanno sempre dai 500 euro ai 1.000-1.500 a scena. Non si paga a film, si paga a performance. Giusto per spiegare un attimo cosa di OnlyFan, azienda fondata nel 2016 da due fratelli Stockley, credo fossero americani, che ha iniziato questa scesa pazzesca. Praticamente, ultimi dati, a gennaio 2022 ci sono 243 milioni negli Stati Uniti, e ci sono 1,2 milioni di creators, cioè persone che creano contenuti appunto per la loro comunità. Ma non sono pornostar, te lo posso assicurare. Non sono creators, infatti. Lì dentro sono la percentuale 0,00001 di pornostar, tutto il resto sono persone normali. Esatto, però il contenuto è maggiormente pornografico. Io mi ricordo nel 2021 OnlyFan si aveva detto non metteremo più porno. Era stata una strategia per far parlare ancora di più di loro. Ma come fanno a dire non mettiamo più porno quando il 90% di chi mette roba lì è pornografica? Però è stata una strategia fatta molto bene, secondo me, perché lì è uscita un po' la voce di chi lavora tanto con OnlyFans, in cui diceva noi creatori di contenuti comunque erotici o pornografici, soft porn, stiamo guadagnando tanto e siamo anche più tutelati magari rispetto a certi ambienti nel porno in cui riceviamo molti meno soldi e è molto più difficile lavorare magari anche per condizioni che non sono sempre ottimali o comunque ambienti che non sono sempre tutelati, dove magari gli attori, le attrici specialmente non sono sempre tutelati. Quindi lì OnlyFans aveva quasi un'identità di qualcuno che proteggeva i creator che facevano contenuti pornografici o comunque gli dava più potere rispetto a quella che poteva essere l'industria in certi casi. Allora, tutto quello che dici, sì, sì, e no, ti spiego perché. Sì perché è vero che OnlyFans dà il potere a te, tu sei il creator e tu sei la persona, bypassi me, bypassi il produttore, bypassi il mondo, ma OnlyFans non è una vetrina dove tu apri il tuo profilo e automaticamente tutto il mondo ti conosce, devi tu promuoverti, se tu sei un'emerita sconosciuta, cioè tu resti lì dentro quel mondo, quella fettina, nessuno sa che esisti. Noi, i produttori porno, facciamo sì che tu, se hai delle qualità, le mettiamo in vista e tu uscirai nelle nomination degli awards perché, ragazzi, bisogna fare una divisione. OnlyFans è fatta da persone comuni, belle, carine e non dico sbagliato, è un modo di fare imprenditoria all'interno della pornografia in maniera diversa. Il porno, inteso come set, luci, camere, regista, trucco, è cinema porno, ma è cinema. OnlyFans, home made it, è il sesso fatto a casa e a comando da chi, chi è il produttore, quello che ti manda i soldi e lui che ti dice, devi farmi un video così, se non ti mando nulla, quindi comunque un boss ce l'hai sempre. Abbiamo qualche numero sugli fans, i top creators, cioè quelli più grossi, guadagnano in media circa 100.000 dollari al mese, quelli di cui parlavi tu, l'utente medio, quindi ogni persona, se facciamo la media generale, guadagna 150 dollari al mese, mentre il costo di un abbonamento medio è di 7,20 dollari. Esattamente. Io ho una domanda appunto su questa cosa. Noi ci siamo abituati a pagare per i contenuti, no? Il porno, l'impressione che le persone, quasi tante persone, siano abituate ad averlo gratuitamente, andare su Pornhub o YouPorn e avere disponibili i video. Come mai non è normale pensare di pagare un contenuto come il porno, visto che è normale pagare la musica, è normale pagare i film, stai comunque pagando il lavoro di qualcuno. Perché purtroppo nel 2000, quando sono nati i primi siti, e questi grandi furboni che hanno messo su queste prime, i primi domini erano, si sono comprati tutti i domini con il nome del sesso, hanno pensato bene di prendere i nostri contenuti, metterli lì gratuitamente per farsi conoscere, e mettevano, devi pensare che io in Canada sono associato con una struttura che ha proprio gabinet d'avvocali, chiamano, non fanno altro che mandare, scrivere, buttare giù siti e riaprono, cioè butti giù e ne riaprono tre. E quindi è una lotta infinita. Alla fine abbiamo trovato un accordo, pensato, in cui noi diamo delle clip gratuite, noi stessi, per almeno farci pubblicizzare, per poi dire, cazzo, lo voglio vedere tutta la scena e la vado a pagare. E devo dirti che per fortuna funziona, perché qualche lira la prendiamo a fine mese. Sui vostri siti la mettete il clip intero, quindi sempre comunque la vostra properties. Però sembra proprio che il porno debba essere gratuito. Devo dire che da un lato mi ha fatto piacere all'inizio sapere che un ragazzino che abita non se lo può permettere, non si può permettere il macchinone per uscire e, sai, nell'immaginario maschile, quando sei figo e hai i soldi, le donne ti cadano i piedi. Se invece non sei così è difficile. Allora dici, almeno se non altro, un piccolo momento di sollazzo, solitario, me lo faccio. Allora per quello io dico, sono solidale, prendi tutti i film che vuoi e divertiti. Però è anche vero che l'esagerazione ci porta a noi poi a abbassare molto la qualità, perché se tu spendi tot soldi e incassi di meno, come fai a continuare a pensare di fare roba figa? Adesso gli attori sono più o meno rispetto al passato. Sono? Più o meno gli attori porno rispetto al passato. Ce ne sono migliaia di più grazie al doping. Ok, altro tema. Grazie a tutto quello che oggi la chimica è riuscita a fare. Una volta il porno lo fecevano sempre gli stessi attori. Quando c'è l'attore, l'attore nuovo, era sempre un'incognita. No, ce la fa, non ce la fa. Oggi arrivano da tutto il mondo perché lo possono fare tutti. Quindi tu ti inietti dei medicinali che fanno sì che anche se la donna non ti piace, anche se sei da solo, tu avrai un'erezione di tre ore, come di una rigidità che è a prescindere da chi è davanti. E ogni cento attori che vediamo online, secondo te quanti fanno questo? È finito, sono tutti quanti così. Cento? Sono rimasti due attori al mondo, due, ma questo lo sanno tutti, due al mondo, Manuel Ferrara in America, Manuel, Marcus Dupre è un attore russo che ha anche lui sbarcato in America e devo dire, no, c'è un terzo scusa, il grande Eric Everard canadese che è a Praga, tutto il resto, anche i campioni europei di quest'anno, Vince Carter è francese che lavora tantissimo con me, sono tutti, tutti, tutti dopati, ma dopati anche perché, forse te lo dico io, anche io oggi se avessi iniziato il porno moderno sarei costretto a farmelo, perché la sessualità di oggi, come ti dicevo all'inizio, non è più la posizione, la seconda, doppie, triple anali, cioè a volte ci sono tre insieme, tu manco la senti la donna, ma come fai? Quindi è proprio una sessualità che si è evoluta con l'avvento della chimica, se no con la sessualità lì non l'avrebbe fatta nessuno, tu li vedi, tu devi vedere un film di backstage e vedi questi ragazzi, maggiori panino, stanno andando in giro così, parlano al telefono e stanno così, quindi capisci che è un po'. Come stanno cambiando i film, cioè nel senso la trama rispetto a vent'anni fa ha più importanza adesso? Sta tornando, sta tornando, sta tornando, c'è stato un periodo in cui il gonzo, il gonzo è quello stile un po', è quello che è stato poi preso anche dal cinema, perché tu devi sapere che il porno è sempre stato all'avanguardia anche sul cinema, con pochi soldi e poco budget cercare di fare cose un po' più fighe e quindi il gonzo non è altro quando tutto un tratto il cinema diventa movimento di camera, no? A mano, questo si è visto nel momento in cui è nato il gonzo, il gonzo nasce negli anni, i primi degli anni 90 esattamente con John Stalliano negli Stati Uniti, in cui compra una piccola i8 camera, faceva quei colori tutti brutti, il rosso specialmente tutto spappolato, era brutto, non c'era digitale, però aveva un suo perché e dall'in poi, a parte che hanno venduto miliardi di telecamerine per farsi gli home video a casa, a parte quella roba lì hanno lanciato uno stile che era il sesso, puro sesso con una piccola storiellina, io mi ricordo tutti i miei film con John in Giro per il Mondo, in Brasile, stavamo in spiaggia, la gente mi diceva Rocco ma non ci credo, ho visto un film di te, cazzo beccate ste due in spiaggia, ve le siete portate in hotel, cazzo che cuore, ho detto ragazzi le abbiamo pagate, ma che cuore, le abbiamo pagate, sono tutte accette, però il modo di girare era uno stile amatoriale, il gonzo è amatoriale con attori professionisti, questa era quella roba lì, oggi sta tornando di moda la qualità, video, vixen, tushi, tutto quello che sono queste case che fanno riprese molto molto belle, sai fuochi, gioco di fuoco, gioco di alta qualità, belle ragazze, un mix con un minimo di trama, a me è sempre piaciuto avere un minimo di trama perché ti dà la possibilità di divertirti anche come personaggio, più che sentirti porno star, che faccio scopo? No, interpreto, faccio qualcosa che poi verrà montato in una storia, ad esempio il mio porno, quello che amo io, è quello fatto di espressioni, non di penetrazioni, cioè di passione, quando guardi una donna e la guardi negli occhi, la desideri, la fai godere, vedi che lei cambia espressione, magari alla fine della scena dicono Dick Drunk, non si ricorda manco come si chiama, quello è il porno che piace a me, non le triple penetrazioni, quadruple, quella roba lì. Secondo te, a causa un po' di quello che è il successo di OnlyFans, il porno si sta riadattando alzando gli standard, c'è visto che quello che c'è su OnlyFans sono homemade videos, tu dicevi non ci sono le luci, non c'è la regia, si fa tutto da solo, quindi il porno per differenziarsi, magari se negli anni era calata la qualità, adesso deve fare un salto di qualità. Sta diventando più mainstream, stanno tornando i film con tram e tutto il resto, sì. Almeno questo è quello che faccio io, ma lo vedo anche da altri. Quante sono le case di produzione, quelle top che fanno i giochi? Ce ne sono di tante nuove. E il mercato principale qual è? Cioè, come produzione? Sempre la silicone valle, come la chiamano? 100%, l'80% del porno mondiale è America. Ok. Poi forse non l'80%, il 75%, il 25% è l'Europa. Ti fa capire di quanto è enorme il mercato americano. Che è la più grossa? Brazzers? No, oggi, sì, Brazzer è una delle più grandi, però oggi Vixen, Tushy, Blackhead, che è Deeper, sono i quattro siti più potenti che appartengono a un gruppo molto molto importante americano. Se la giocano con Brazzer, Reality King, che poi hanno tutti sotto di loro. Sottodomini. Sì, sottodomini di varie categorie. Negli anni 2000 io sono stato invitato perché sono stato assorbito dalla gamma, che è una di queste qua canadese. E devo dire che, mi ricordo, erano tutti tra i 30 e i 40, vedevi tutte le Lamborghini, Porsche sotto, era Las Vegas, Internex si chiamava, e avevano appena iniziato il terzo anno quando mi hanno invitato, perché gamma mi prende come in esclusiva per la loro società. erano tutti giovani che non facevano altro con queste tavolate, una cena, a un certo punto della serata facevano ok. So, number 10 this year is, dicevano nome con, facevano 85 million, poi 120 million, poi io quando dicevo, ma milioni di che, di lire? No Rocco, dollars this year. E stavo parlando dei primi anni del porno di questi ragazzi, erano tutti molto giovani, erano tutti programmatori di internet, softwareisti e programmatori che hanno comprato i domini, hanno cominciato così. Perché i migliori sono quelli che riescono ad analizzare meglio i dati, c'è una lotta di dati a questo punto. In assoluto, su quelli che ti sono arrivati a casa, un po' come ha fatto OnlyFan, arrivando direttamente dal produttore all'utente finale, no? Quella mentalità lì di arrivare, bypassare tutto il canale distributivo. Chiaro. Qualche numero, facciamo il super quark del porno. Il mercato del porno vale 100 miliardi di dollari l'anno, ci sono 25 milioni di siti, che sono il 12% della rete totale, praticamente. Ogni secondo 28 mila persone consumano porno. E quindi dietro a tutto questo mercato ci sono 4-5 grandi hub, diciamo. Io ti posso assicurare però che il 90% di internet viene utilizzato per vedere il porno. Ah, tu dici che sono il 12% dei siti ma il 90% del traffico. Il 90% del traffico internet è pornografico, te lo posso mettere per iscritto. Quindi ti fa capire di che volume d'affari c'è lì sopra. Io ti dico solo che io sono stato testimonial a un masturbatore tedesco, per mia sfortuna che manco funzionava una merda, perché l'hanno fatto, mi hanno dato una barca di soldi, mi hanno fatto pubblicità in tutta l'America. Quando sono andati a comprare la pubblicità su questi siti importanti, hanno speso cifre che tu non puoi immaginare. Stiamo parlando di milioni, milioni di dollari per pubblicizzare. Quelli che sono i click hanno pagato milioni, milioni di euro. E la persona, il tedesco, questo con cui ho fatto il deal, ti dico solo che lui non ha neanche incontrato personalmente le persone a cui ha dato tutti questi soldi. Ti faccio capire solo a che livello girano lì dentro i soldi. Girano tantissimi soldi, però poi quelli che sono i pornoattori non si riflette quello... Siamo gli operai, siamo gli operai, siamo gli operai. Ma non è che ci sono andato molto lontano, perché nel porno, anche se sei l'attore più pagato al mondo... Certo, io ho fatto la risposta d'attore, produttore è un'altra storia, ma anche come produttore. E comunque io non mi lamento, perché per essere un momento dove il cinema porno è gratuito, dove tutto viene visto gratis, avere dei fan che comunque mi comprano la mensilità dell'abbonamento, 120-130 mila persone al mese non è male. Tu 120 mila bilbonati c'hai? Sul tuo sito, diciamo? 120-130 mila stabili. Le case di produzione si dividono anche per preferenze sessuali, etrosessuali, queer... C'è chi si specializza in... C'è chi si specializza solo in qualcosa. Ad esempio, io non faccio la linea trans, che invece vende 10 a 1 oggi. Cioè, chi produce film trans sessuali vende in maniera surra... Ha trovato una nuova nuova mercato. Ma già da qualche anno, perché è la nuova era, quello che piace, trasgressiva, non lo so, però piace molto la linea trans sessuale. I dati dicevano che ogni quattro persone a vedere il porno tre sono maschi e uno è donna. E si sta parlando anche del porno... Sì, forse sì, tre e uno, sì, ci sta. E si sta parlando anche del porno femminile per le donne, c'è la regista Erika Last, di cui si parla sempre. Secondo te avrà sempre più futuro o siamo in una fase un po' di stallo? Io ti dico, allora, Erika Last è stata la pioniera ed è stata quella che ha rotto il meccanismo del finalmente una regista che fa le cose per le donne. Poi in realtà io sono sempre stato un po' contrario a quell'idea che le donne amino vedere il sesso l'erotismo femminile sia l'erotismo soft e delicato. Non c'entra un cazzo, perché le donne sono molto estreme, anzi sessualmente sono molto più perverse dell'uomo. Se tu vedi la regista numero uno al mondo negli ultimi cinque anni, non Erika Last, è la moglie di Manuel Ferrara, che è la regista di Dipper, che fa della roba pazzesca, bravissima, top, 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 e non è una che ci va sul delicato per niente. Io non so, e qua ti chiedo a te, il porno in VR, in realtà virtuale, che sembrava dovesse essere la prepista nel metaverso, nella nuova cosa, può essere che sia in un momento di stallo? Lo è. Secondo te? Perché? Ma lo è anche perché... Tu produci film in VR. Non l'ho mai fatto, mi sono documentato all'inizio, ci ho provato, non mi piaceva l'audio, non mi piaceva perché il video, un pelino, stando statici, gli attori non si potevano muovere molto col casco, era molto complicato, però ne ho visto uno prodotto da Dorsell, ho detto che figata. Poi ti dico la verità, ci sono delle società, ce n'è una in Repubblica cieca che viene a girare nei miei studi, e loro sono specializzati sul VR, e esistono solo loro che fanno una roba figa. Forza il metaverso mio figlio dice, papà, questi film sono destinati a morire, la gente è stanca, oramai avete fatto tutto, girato, rigirato, oramai è noia, questo è quello che dice mio figlio, ahia, mantieni già. 26. Oramai è noia, tu devi portare la gente da casa, senza muoversi, qui sul set, e devono essere loro a dire agli attori e vivere quella roba lì, ma ce li devi portare virtualmente, in maniera col metaverso, con tutto quello che è il nuovo mondo, virtuale. Che intende per portare le persone sul set? Che da casa, attraverso la tecnologia moderna, piano piano, tu puoi, attraverso un casco, attraverso quello che sia, essere trasportato lì, e tu puoi interagire con gli attori, interagire proprio in maniera reale, e vederti, sederti a fianco a noi, e dirigere un film, e dirigere una scena, oppure attraverso un gioco, hai la possibilità di passare a un livello superiore. Ci sono gli Oscar del porno alla sceneggiatura pure? Tutto, scherzo. Cioè, tutto. Ci sono diverse categorie, cioè, dalla sceneggiatura al... Attore, scena, scena anale, scena di gruppo, all treasure scene, best film, best actor, supporting, tutto, c'è supporting actor, starlet, performer. Ma questi premi hanno un'importanza anche per chi guarda i film porno, cioè la persona che si va a vedere i film porno è interessato anche a sapere chi ha vinto cosa, c'è addirittura questo tipo di... C'è tipo gli Oscar oppure è più una cosa per gli addetti ai lavori? in America sì, in America c'è un tappeto rosso, e ci sono fan da tutti gli stati americani che arrivano, ti fai due ore di tappeto rosso prima di entrare, è una cosa incredibile. Quindi non è per gli addetti ai lavori, è proprio una cosa più che... No, è anche per gli addetti, soprattutto per le società, per imporsi dal punto di vista media, cioè posizionarsi sui social media, col marketing e dire abbiamo vinto tutto quest'anno a Las Vegas, al porno Oscar, vuol dire comunque tu come attore alzi il prezzo, nelle vendite... No, serve molto, serve tanto tanto. Ci sono mai stranze italiane riconosciute come le migliori nel mondo? Ma scherzi, abbiamo il grandissimo... il figlio, il figlio che pensa tu era venuto su un set in America a fare le ripresine con una telecamerina stupida, il figlio di Lasse Brown, Axel, Axel, fa tutti i film e ogni anno vince una marea di premi, lui è quello che rifà i Fantastici 4 in versione hard, Superman in versione hard, cioè tutto quello che è personaggi dei fumetti, lui è specializzato in quella roba là. E lui è di? È italiano di... se non mi sbaglio è emiliano, nelle parti di Bologna, quella roba là. Axel, il papà era un famosissimo regista di film erotici, Lasse Brown. Il tuo modello chi è? Il tuo mito chi ha? A livello di regia, di produzione. John Leslie sicuramente. Perchè? John Leslie come regista, perché è quello stile che piace a me, è il primo attore che parlava alle donne. C'era John Holmes che era un calibro 30 e c'era John Leslie che era un calibro normale, normale, però vedere John Leslie in action era un'altra storia, era l'unico che mentre faceva sesso con le donne le guardava e gli parlava e questa voce all'orecchio quando diceva You are nasty, I love the way you fall. E invece John Holmes era lì, era lì con un cadavere. Poi sono amico di Joy Silvera, John Stalliano, con John Stalliano ho fatto film bellissimi, Fashionistas 1, 2, 3. Sono stati film in assoluto più cari della storia, mi ricordo un milione di dollari il budget di Fashionistas 1. A cosa hai servito? Per l'estaro o per la scenografia? Scenografia. Scenografia e tipo di film girato in 35 mm. Ah ok, perché 35? Perché è una scelta artissima. Perché voleva fare una scelta, voleva fare un top top movie. Come si chiama il film? Fashionistas. Fashionistas. Ha fatto un guardaroba da 200 mila dollari di latex, tutto ambientato con latex. Abbiamo girato tra Berlino, Los Angeles, ha fatto un lavoro pazzesco. E quanti ne ha guadagnati? Credo quanti ne abbia persi. Anche perché lui, allora, quando hai una struttura come Evil Angel, che è leader, tu fai un film l'anno che ti servono per l'immagine. ma su quel film lì non guadagni niente perché spendi talmente tale. Qual è una misconception che sto pensando? Una cosa che tanti credono sia vera ma non lo è di questo lavoro, comunque del porno. Ah, che ogni scena ti diverti? No. Devo dire tanti, tanti, tanti dopo un po'. Ti dico la verità, restare in questo lavoro per così tanti, tanti, tanti anni non è facile. Non è facile perché... Quanto dura in media la carriera? Quanto dura in media una carriera di un'attrice e di un attore? Purtroppo per le donne molto meno. Purtroppo per le donne, però l'uomo vuole vedere sempre ragazze nuove. Questo è il problema. E siccome sappiamo che tre uomini e una donna e quindi vedono questa la media c'è una cosa che nessuno sa che la maggior parte delle ragazze porno arrivano a 18 anni e un mese. Se tu dici Rocco ma l'età maggiorenne per arrivare lo portiamo a 16 arriverebbero a 16. Uniti adesso c'è un movimento che sta cercando di riportare l'età a 21. Adio devo dire un po' l'idoragione a questo gruppo. Senti, noi chiudiamo sempre la puntata chiedendo un consiglio da un ospite di visione o di ascolto. Diciamo che è un alieno che sbarca sulla terra e dice ok questo è il porno ti devo spiegare il porno che cosa ti fai vedere. Prima di un momento guarda Fashionistas bellissimo. Fashionistas. Fashionistas perché ha una storia bellissima ha un'evoluzione bellissima poi ragazzi c'è Bella Donna Bella Donna ha una arcage come dicono gli americani arca la schiena che ci puoi mettere un piatto di pasta asciutta grazie a voi grazie mille grazie a voi grazie thank you thank you thank you grazie Showoff è una produzione Will Media Sky Italia autori Francesco Giano e Giulia Valentina cura editoriale Riccardo Bassetto produzione Giada Archidi e Silvia Calarco regia Maurizio Stanzione Marco Berton Scapinello e Antar Corrado sound design Lorenzo Marsiglia distribuzione Will Media e Sky Italia grazie a tutti grazie a tutti